buonasera a tutti e benvenuti benvenuti allora intanto ciao a tutti quelli che già ci conoscono e beh io per chi non mi conosce sono simone zorzi titolare di biovità il progetto italia e un caloroso benvenuto a chi non ci conosce e che magari è la prima volta che qui allora prima di iniziare per questa sera abbiamo un ospite speciale che è già già stata con noi più volte questa è una serata anche un po particolare in ogni caso prima volevo darvi qualche informazione tecnica allora intanto tutte le persone che sono in questa stanza privata avranno la precedenza per quanto riguarda le domande che faremo al che potete fare alla fine così il discorsivo sarà più lineare e è una live periodica questa che facciamo appunto periodicamente e la prossima sarà l'otto aprile nella stanza di plasma marino marea e ci sarà un argomento particolare appunto legato al nostro integratore marino di plasma marino marea e chi vuole avere le notifiche per le prossimi eventi si può iscrivere al nostro canale youtube e iscrivendosi così sarà sempre al corrente piuttosto che magari scoprirlo l'ultimo momento eccetera sarà il corrente attraverso le notifiche bene allora sono un po emozionato perché perché negli ultimi tempi si sentono in giro tante cose relativamente a dei grandi cambiamenti che arriveranno ok meglio di una persona astrofisica geofisica e tanto altro e soprattutto una persona e un'amica meglio di giuliana conforto non poteva non poteva aiutarci che spiegarci un po cosa sta accadendo insomma perché è senz'altro una domanda che molte persone stanno ponendo ciao giuliana e benvenuta ciao simone grazie dell'invito grazie a te giuliana grazie a te che sei sempre disponibile nel nel parlare con noi di questi certi argomenti beh abbiamo parlato tante volte anche di acqua giuliana no ci siamo conosciuti in questo modo è già due anni più di due anni è sì che vuoi l'acqua è l'elemento della vita cruciale della vita quindi quindi insomma da questo ci siamo nel segno dei pesci esattamente esattamente tu a febbraio io a marzo insomma quindi è il periodo dei dei pesci ok allora dovete sapere che in questi giorni prima di abbiamo organizzato un po di tempo fa nel senso che abbiamo dato una data ma nell'ultima settimana io giuliano ci siamo visti online per parlare di questa serata abbiamo come dire ragionato un po di come poter portare certe informazioni perché appunto anche a giuliana molti fanno delle domande cosa accadrà i tre giorni di buio ci saranno catastrofi ci sarà cosa succederà il blackout totale insomma ci sono state tante domande e noi grazie a te giuliana abbiamo colto il titolo da un versetto di marco dal vangelo secondo marco le stelle cadranno dal cielo e io prima di iniziare volevo leggere testuale ciò che il versetto di marco nel vangelo dice ok giuliana e dopo partiamo informazioni scientifiche il signore disse ai discepoli in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà la luna non darà più la sua luce le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono i cieli saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria wow wow allora qui giuliana diciamo che il messaggio forse ecco magari per me personalmente non tanto però si può anche leggere come saggio però una catastrofe invece non lo è invece non lo è tuttavia giuliana vorrei vorremmo come se sei d'accordo portare alla fine questa cosa del fatto che non lo è no che fa capire un po come cosa sta accadendo perché tu negli ultimi giorni quando ci siamo parlati mi hai raccontato un po della doppia rotazione nel cuore della terra cioè come è formata la terra e cosa sta accadendo perché sono stanno accadendo qualcosa di più di più cose particolari ok adesso magari la regia ci aiuta e queste cose sono difficilmente anche a volte comprensibili no sì perché è anche il problema di scrittura ma non importa la zai la conosciamo ok la terra è composta da strati separa separati da spazi vuoti che consentono il loro moto indipendente prego giuliana è sì questo è un fatto molto importante perché tutti parlano degli astri fuori ma pochi sanno della struttura della terra all'interno e e la cosa incredibile che questa struttura è stata praticamente descritta da dante ok e ora come la riconosciamo e dante l'ha intuita e forse la vista con la sua visione superiore però ora la riconosciamo con la con la geofisica perché nessuno pensa come nessuno sa o pochi sanno che gli strati interna della della terra si scoprono con le onde sismiche e le onde sismiche sono onde acustiche ok allora il modo per scoprire gli strati interni è stato quello di mettere una serie di registrazioni di delle onde acustiche sparse su tutto il pianeta e poi collegarlo con programmi matematici idonei e per cui sono aggiunti gli strati geofisici a una struttura che è straordinaria nel senso che è fatta proprio di strati che sono separati da da gap come si chiama cioè da vuoti i quali consentono di girare ai vari strati di girare in modo indipendenti cioè quelli che dante chiamava i gironi e questo è giudiana se mi dicevi che è stato lo stanno studiando di due l'anno scoperto due fisici due geofisici cinesi giusto o sbaglio dunque noi due questo l'hanno scoperto ormai da 40 50 anni i geofisici e questa struttura è assodata e già delle cose grossissime perché i vari strati interni alla terra hanno gli stessi raggi dei pianeti che vediamo quelli interni del sistema solare non non giove gli altri ma marte mercurio e venere che stanno all'interno delle del sistema solare quindi le dimensioni noi li vediamo fuori però gli strati interni della terra hanno le stessi raggi degli strati fuori che vediamo che vediamo fuori e stanno dentro la terra ok quindi dopo hai c'è portato una slide straordinaria che dimetti proprio anche le dimensioni la slide successiva stanno le dimensioni sono misurate anche questa cioè c'è il fatto stranissimo che che un grande diciamo un antico saggio che è ermete trimegisto diceva l'alto è come il basso ok cioè noi vediamo i pianeti fuori che hanno le stesse dimensioni degli strati interni dentro la terra straordinario giuliana è straordinario una cosa è verificato questa è la cosa incredibile esatto scusami ma lo spessore della costa terrestre quindi quant'è per capire un attimo lo spessore della costa terrestre è niente cioè 12 chilometri in media ma se pensiamo che tutto il raggio della terra è 6.000 chilometri cioè noi stiamo su un guscio è come il guscio di un uovo si detta così insomma è sì sì sembra proprio il guscio di un uovo di qualcosa che è dentro e da è fatto a strati e poi il cuore della terra ha le dimensioni di plutone che vediamo fuori ma che potrebbe essere quel famoso sole nero di cui parlava zaratustra ok adesso non adesso non so se anticipo ma il sole nero potrebbe essere un buco nero ok lo stai anticipando giuliana fermati perché adesso tutte le informazioni qua ci sono le persone che stanno assimilando a man mano ok allora abbiamo la terra che dopo io magari dico delle cavolate tu correggimi come se fosse allora allora la terra ha delle sfere all'interno si può dire sono delle sfere cave delle sfere cave e sì perché la superficie della terra è la crosta che ha questo spessore piccolo poi ci sono i gap vuoti e sono delle sfere cave che hanno delle dimensioni che adesso misuriamo con le le onde sismiche perfetto ok quindi abbiamo delle sfere che stanno dentro le sfere praticamente no e le cave una dentro l'altra perfetto loro hanno dei gap quindi c'è uno spazio vuoto tra ogni ogni sfera e queste tu dicevi che sono che gli permette questo spazio vuoto di avere un movimento indipendente si girano con i tempi diversi probabilmente insomma però non 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 sono collegati non si toccano fra di loro perché ci sono questi vuoti che guarda caso sono quelli che dante chiamava gironi faccio presente che anche omero e virgilio hanno parà hanno parlato degli strati sottostanti la terra quindi non è solo dante dante è quello che andato più a fondo precisato caratteristiche più importanti però l'idea della terra fatta a strati è un'idea che risale ad omero grescia per non dire che poi ci stanno molte versioni anche in america latina di che parlavano della terra fatta strati e quindi quindi è insomma questa questa idea questa è sentita da grandi saggi poi adesso è provata dalla misura delle onde sismiche perfetto giulia e abbiamo detto che abbiamo delle sfere una dentro l'altro noi abbiamo questo questo gap vuoto e quindi loro si muovono quindi girano cioè girano a senso contrario tipo centrifugo e centripeto per capire cioè spiegaci questa cosa dunque sembra che girano si alternano cioè la grande quella sottostante la crosta che è quella più grande che si chiama il mantello potrebbe girare in senso verso ovest ok mentre noi giriamo verso est sì e anche gli altri cioè al si alterna non avere un verso e non è nell'altro e faccio presente che giordano bruno parlava proprio delle dei modi opposti come che si auto alimentano senza non hanno bisogno di un motore perché uno si alimenta con l'altro che gira in senso opposto ok ma sai cosa mi scusa faccio un escursus velocissimo non so se hai visto è un film del un bel po di tempo centro della terra quello di il titolo mi sembra fosse contact quindi contatto quello con jody foster sembrava che andasse in un altro pianeta però ma quello lì era aspetta quello che lei è riuscita era una scienziata che aveva captato dei dei suoni delle frequenze danno fuori dalla nostra dal sistema solare e poi non so cosa fosse successo adesso non lo ricordo sinceramente però diciamo che aveva percepito attraverso un tipo un extraterrestre forse adesso magari dico cavolate perdonatemi se magari chi l'ha visto mi dice la voce lo spiega praticamente questo questo oggetto si muoveva con questi principi qua della terra che mi stai che stai spiegando tu sì sì ma questo diciamo è la cosa più ovvio cioè è che la terra se non c'è c'è sempre il problema delle della benzina no ci vuole la benzina no se se c'è il doppio movimento e tutto si alimenta col doppio alimento e si alimenta col doppio movimento quello verso est è nella natura della natura insomma e questo e questo era molto potenziato ripeto da giordano bruno ma anche anche da altri che hanno poca eco perché fa comodo sempre creare il problema del combustibile no il limite dei combustibili assolutamente allora diviana allora le stelle cadranno dal cielo adesso siamo arrivati al punto che abbiamo capito come com'è la terra ok ecco ma cosa c'è allora la domanda che ci stiamo ponendo un po tutti no poveri mortali ecco posso dire così è quello che a questo punto sembra che ci sia un grande cambiamento nel 2024 che è corretto non dare delle date giuliana non ha senso dare date perché sai queste cose sono tutte cose però ci stanno indizi e molto chiari anche sulle dici ma allora cos'è che sta succedendo allora considerato che non sarà una situazione catastrofica e questo assolutamente no bene e poi ce lo spieghi meglio considerando che non è una cioè questi cambiamenti sono comunque dovuti a qualche indizio importante che probabilmente sta anche su queste spiegazioni che ci stai dicendo tu cioè quali sono gli indizi che ci portano a dire ci sarà un cambiamento ma gli indizi sono tanti sono tanti e diversi e se vuoi paradossalmente anche tutte queste guerre che stanno provocando i governi e anche per distrarre da quello che sta succedendo in realtà questo è stato diciamo questo cambiamento è stato previsto da profezie che pure quella di marco che non sembra così benevola però marco parla dopo la tribolazione no e la tribolazione è quella che che abbiamo vissuto con queste guerre con queste con queste lotte intestine con queste con queste con questi drammi che coinvolgono i popoli e però non discutono di una di una legge che suscitò anche l'ira di gesù all'epoca ed è quella dei mercanti che avevano che hanno legato il debito pubblico al tempo per cui se chi ha chi ha soldi diventa sempre più ricco nel tempo e chi non ha soldi diventa sempre più povero perché ha gli interessi negativi insomma il tempo da interessi negativi ok quindi quindi ehm c'è un'ingiustizia di fondo che poi è stata inventata dalle diciamo dai mercanti eh ok fermiamoci qua ho capito sì sì e che rende tanti poveri e pochi e pochi sempre più ricchi no e quindi questa ingiustizia probabilmente la natura o diciamo oppure il progetto che c'è perché la terra quello che sembra che sia un progetto intelligente una sorta di scuola dove possiamo imparare ad essere eh ad essere a diventare a conoscere noi stessi perché in fondo lo scopo è questo no e la questa scuola ci consente di uscire dalla mentalità di discutere perlomeno questa mentalità che ha dominato la storia e che è una giustizia terribile perché ha creato pochi pochi ricchi e tanti poveri ok e quella che unisce invece sicuramente unisce le varie sfere della terra è l'acqua perché l'acqua la madre acqua la sostanza madre ha queste caratteristiche che abbiamo citato spesso Simone è questa abilità ormai scoperta dal inizialmente dall'università di Stoccolma ma che adesso è provata riprovata eccetera che l'acqua liquida oscilla tra due frequenze una visibile che la vediamo insomma e un'altra in raggi x che con gli occhi non la vediamo ma con gli strumenti li vediamo cioè ci facciamo le radiografie e raggi x quindi non è non è più un mistero certo finché non avevamo gli strumenti non potevamo capire questa oscillazione però l'oscillazione ormai è provata certificata e rivela le straordinarie qualità dell'acqua secondo quella mia tesi del mio libro l'acqua il quinto elemento che era citato da Platone e Aristotele che era l'etere potrebbe essere la stessa acqua però nelle frequenze invisibili e nelle frequenze invisibili perché oscilla e l'acqua unisce praticamente il mondo viso e fa così come oscilla tra frequenze visibili e frequenze invisibili comunque oscilla tra il visibile e l'invisibile e noi siamo ricchi di acqua il nostro corpo è ricco di acqua soprattutto il sistema linfatico che è quello che poi produce gli anticorpi e ci guarisce da è una teoria estremamente interessante è questa più che ormai è pratica perché possa essere definito una sorta di etere l'acqua è molto interessante no cioè sì l'etere però nella sua versione a frequenze maggiori insomma la frequenza più rapide insomma e l'etere chi era Platone Aristotele l'etere riporterà l'armonia nel mondo insomma quindi siamo secondo me prossimi a una svolta culturale straordinaria insomma ok io Giuliana sei straordinaria e volevo dirti questo facendo un passettino indietro no parlavamo di indizi e ci hai portato una slide molto interessante dell'antimateria ma scusami perché qua io eccola qua scusami salvo quella prima forse vero ecco quando tu hai parlato prima e c'era la slide che parlava del sole nero all'interno abbiamo questa slide che c'era il sole nero ci puoi spiegare questo concetto geofisico qual è cosa una spiegazione per favore guarda qui ci sono molti nomi diversi no perché nel corso della della storia ognuno ha detto c'erano non mi ricordo chi fosse comunque c'è un sole nero al centro della terra l'ha detto Zaratustra poi alcuni hanno detto c'è un occhio al centro della terra ed è qui è l'immagine dell'occhio ma in realtà questa immagine che sembra un occhio è quella di un buco nero quindi al centro della terra ci potrebbe essere un buco nero un buco nero è un un oggetto che assorbe luce ed emette materia però assorbe la luce quindi non lo vediamo ma ha delle azioni su tutto ciò che lo circonda perché assorbe attrae in modo irresistibile la materia ok allora questo buco nero o occhio qui è rappresentato da quello che è il un buco nero che potrebbe stare al centro della terra e che è circondato da quello che sembra un cerchio no se questi sono in realtà due cerchi e la natura del buco nero c'è un cerchio che ruota verso est diciamo così insomma verso destra se vogliamo il cerchio posto che gira verso ovest o verso sinistra ok che questi sono i distratti della terra che dicevi prima questi sono i due e le due rotazioni opposte che ormai la geofisica ha scoperto al centro della terra ma la geofisica parla anche del buco nero al centro della terra o no no parla parla però dei moti opposti ok e dei moti opposti parlava anche dante quando arriva a osservare il cuore per il cuore della terra lo chiama il paradiso dante ah ok quindi potrebbe essere un buco bianco potrebbe essere un buco bianco non nero no il punto è che per ora è stato un buco nero ma quello che può avvenire e in tempi rapidi è che diventi un buco bianco ok quindi allora il buco bianco è l'opposto assorbe luce ed emette materia ok quindi la visione di dante del paradiso che vede gli spiriti basati che ruotano in senso opposto è stata adesso riconosciuta dai geofisici che vedono la doppia rotazione al centro della terra e sembra che ci possa essere un'inversione dei due moti e qui abbiamo le teorie di hawkins che lo conoscerete quello in sedia a rotelle in sedia a rotelle ma anche anche diciamo proprio seguite da carlo rovelli cioè non voglio attribuire quello che dico io però carlo rovelli un altro esperto straordinario di buchi neri e buchi bianchi che diciamo un buco nero può trasformarsi in buco bianco se almeno dico la tesi di hawkins se il corpo se il cerchio centripeto sia ampia supera il cerchio esterno centripeto i due orizzonti si annullano e noi finalmente vediamo quello che non abbiamo mai visto ok giuli fermati un attimo dopo te lo collego io ok allora tu stai dicendo che il movimento centripeto cioè verso l'interno no verso l'esterno centripeto è verso l'interno ok centrifuga verso l'esterno ok quindi l'altro l'altra diciamo sfera che gira è un moto centrifugo centripeto sono ci sono tutte e due una centripeto e una centrifugo ok e questo secondo giordano bruno è il segreto del motore primo no quello che si auto alimenta con gli movimenti apposti ma quando tu dici che i due orizzonti si annullano cosa significa se il centripeto che è interno si allarga supera quello centrifugo ok quello centrifugo che è interno supera quello centripeto che è esterno i due siccome sono uno in un verso non all'altro se si se si sovrappongono si annullano l'uno con l'altro ok porca vacca che figata quindi noi torniamo a rivedere le stelle come dice giustamente carlo rovelli perché noi non abbiamo mai visto la realtà ma abbiamo visto due gli orizzonti ok ok bene allora e qua adesso io mi sono preso un appunto veloce dopo sul discorso in di queste quindi questo movimento vediamo le stelle quindi il buco nero può diventare buco bianco era questo discorso di hawkins giusto sì sì è quello che c'è una trasformazione possibile ma questa riguarderebbe il cuore della terra certo certo e ci sconvolge tutta la visione siccome non abbiamo visto il 95 per cento della massa e qua cambia tutto ora che me lo sono me lo sono appuntato poi te lo dico ancora perché ci abbia ci hai portato un'altra cosa legata agli indizi materia antimateria e salvo quella successiva eccola qua ok questo ci hai detto che sono sono delle delle degli eventi che sono importantissimi insomma qua spiegaci un po vi appare la materia è ma è il fatto che la terra emette antimateria e non lo potevamo vedere finché non usavamo le fondi spaziali per vederlo e sono raggi gamma cioè la terra emette raggi gamma raggi di energie incredibili legati all'antimateria quindi la terra viene considerata un pianeta ma se mette raggi gamma è una stella in un certo senso perché mette luce solo è luce che non vediamo con gli occhi e che abbiamo potuto vedere solo con le sonde spaziali fuori della sistema della terra fuori della magnetosfera terrestre forse anche fuori dalla magnetosfera solare ma ormai giuliano a questo è collegato a quello che ci spiegavi prima dei movimenti della rotazione interna della terra no sì sì potrebbe essere tutto collegato cioè tutto interconnesso lì il famoso inside out cioè il dentro come il fuori potrebbe essere collegato comunque se le sonde spaziali osservano che la terra emette raggi gamma che sono luce elettromagnetica però a frequenze elevatissime noi non solo non lo vediamo con gli occhi ma abbiamo bisogno degli strumenti però lo stiamo osservando quindi la terra sta in qualche modo facendo un cambiamento per lo meno o per lo meno riveliamo delle capacità di essere non un pianeta ma una stella ok ma allora giuliana tornando adesso a quello che dicevi prima noi esseri umani abbiamo queste le capacità del nostro cervello che sono che ci permettono o comunque dopo lo spiegherai meglio tu di vedere soltanto il 5 per cento ok cosa e rispetto della della materia per cento è con gli strumenti pure dotati tutti gli strumenti ok quindi ecco spiegaci questa cosa c'è cosa stiamo vedendo noi cosa stiamo vedendo quotidianamente cioè noi con gli occhi non vediamo niente quasi cioè noi vediamo solo il visibile cioè non vediamo i raggi x non vediamo i raggi gamma non vediamo niente però adesso ci siamo dotati di strumenti per cui raggi x raggi gamma eccetera li vediamo con gli strumenti noi con gli occhi vediamo pochissimo la visibilità dell'occhio umano è che pure è uno strumento eccezionale comunque limitativissima ok quindi noi vediamo c'è cosa è come una sorta di di schermo che non so spiegaci no perché insomma questo deve essere dovrebbe essere un discorso che si fa dalle scuole elementari cioè le onde elettromagnetiche rai hanno una serie di frequenze che vanno dalle da micro micro frequenze lunghezze tonda alle a quelle normi giganti eccetera noi vediamo solo le frequenze ottiche cosiddette che è quasi niente cioè la parola giusta per una io che sono romanesca che siamo ciecati siamo ciecati non vediamo niente però abbiamo un cervello che poi ci consente di intuire di sentire quindi tanto di cappello al nostro cervello ci hai portato anche una slide due slide legate al cervello salvo eccole qua ecco qua e questa cosa è questo noi abbiamo un cervello che è straordinario cioè pensiamo adesso una volta mi ricordo non so chi mi ha detto ma discendiamo dalle scimmie ma puoi mettere il cervello delle scimmie a parte che noi abbiamo questa capacità straordinaria di essere retti quando siamo svegli e non quando dormiamo e questo è un fatto molto importante perché ci lega la coscienza ci lega la verticalità e tutte le verticali siccome siamo su una superficie sferico grosso modo sferica insomma tutte le verticali coincidono col cuore della terra no da tutte le parte insomma e quindi c'è questo legame che guarda caso è legato alla coscienza perché noi siamo eretti non quando quando siamo svegli non quando dormiamo ok quando giuli dici che siamo eretti e quindi queste linee coincidono con il centro della terra con il cuore della terra salvatore fai un passo indietro con la slide ecco qua tu ci hai detto che il la terra è una sorta di organismo no e quindi facciamo parte non quello sferico però ok adesso scusa fermiamoci un attimo su questa su questa slide cioè la terra è circondata dalla magnetosfera sì che guarda caso ha è alla forma di una mela sì e vi ricordate la storia del peccato originale ci mangiamo la mela eccetera no crediamo che questa sia realtà ora con le sonde spaziali la superiamo la vela che usciamo dalla mela quindi vediamo cose che prima non avevamo mai visto poi se miglioriamo gli strumenti stanno uscendo cose ancora più incredibili cioè ci si è moltiplicato l'universo nel giro di dieci anni perché c'è il james webb no james webb ma forse un po meno comunque cioè prima miliardi di stelle adesso miliardi di miliardi di miliardi cioè quello che miglioriamo gli strumenti quindi e ci si moltiplica lo spazio e il tempo allora poi considerare solo un tempo un unico tempo e secondo me è il grande inganno che di cui siamo tutti responsabili perché in realtà perché c'è un solo tempo ce ne possono essere infiniti di tempi no ok ok e tra l'altro universi con altri tempi sono stati citati prima da giordano bruno infiniti mondi intelligenti e ora sono calcolati da roger per rose che è premio nobel per la fisica del 2020 ok giuli di un diverso di cui si parla verso c'è il proprio tempo ok giuliana ma questo del multiverso secondo me dobbiamo fare un'altra un'altra live dobbiamo parlare però era tanto per vedere quello che noi abbiamo il problema è che la mela che ci circonda che non vediamo l'area cioè non vediamo le onde oltre l'ottico ok tu ci hai detto giuliana salvo la slide precedente no ancora aspetta torna mai mai ok questa bravissimo scusami forse non aveva la precedente allora io voglio mettere in ordine no perché se non capisco bene io cioè io ho capito tutto e son bravo è dopo mi darei il voto da come tu hai una mente straordinaria a volte no hai così beh dobbiamo sapere dovete sapere che ci danno ha scritto tantissimi libri il libro più importante è stato il risveglio e c'è lo troviamo dove su macro librarsi giusto giuliana sì sì ma in qualsiasi insomma comunque che adesso stai facendo anche una parte in più se non ho capito male giusto che quindi sì adesso sto aggiungendo delle cose è un libro straordinario allora detto questo e il cuore della terra sta cambiando che è un po quello che dicevamo prima relativamente a tutte le informazioni che ci hai dato e qui abbiamo un questa slide che dice sta pure svelando la presenza dell'altra terra e questa foto che abbiamo già visto con te questa immagine è una sorta di bambino giusto esatto di un embrione sembra no esatto ma tu esatto un embrione ma quando tu parli la terra è un organismo parli con di questo concetto cioè di come è stata ah ok è perché l'organismo è questo organismo che qui è piccolo perché non potevo metterlo in grande è 45 volte più grande della terra sferica che conosciamo mamma mia e ora lo osserviamo con le sonde spaziali non è che ma lo sono inventato io e cioè poi quando gesù dice c'è un'altra terra poi giordano bruno fa aggiunge un unico organismo allora ti rendi conto che con questi qui che vogliono far guerra un unico organismo non si spara addosso esatto quindi la concezione cioè dividere il pianeta in tanti stati uno contro l'altro armati è l'ignoranza del fatto che siamo parti di un unico organismo è incredibile guarda la messa come come l'hai spiegata tu adesso è veramente incredibile non è da credere effettivamente eppure così è cioè l'organismo lo vediamo è unito è fatto di plasma poi sappiamo essendo un liquido mentre noi stiamo sulla superficie sferica che è fatta di pietra fondamentalmente noi stiamo su una rotazione rigida infatti impieghiamo più o meno un giorno no a fare un giro insomma mentre la e poi l'anno è la rotazione intorno al sole insomma però invece questo organismo che è 4 5 volte più grande della terra sferica è fatto di plasma fluido quindi non ha una rotazione rigida ci stanno le parti interne che ruotano diciamo sulle sulle 24 25 ore poi le parti esterne addirittura 27 ore quindi non c'è un unico tempo oscilla tra le 24 e le 27 ore io l'avrò detto altre volte all'uscito brevemente hanno fatto un esperimento con dei volontari chiusi in grotta e avevano da mangiare da comunicare da comunicare con l'esterno tutto tranne orologi quindi dopo due mesi due mesi e mezzo che sono stati in grotta e e sono usciti loro hanno si sono fatti un orologio loro e hanno visto che il ciclo normale sonno veglia sta tra le 24 e le 27 ore 25 anzi 25 e 27 ore quindi noi stiamo in una una prigione temporale se vogliamo che è determinata dal fatto che stiamo nella terra sferica ma la terra di plasma non sta distante sta qua e il passaggio dall'uno all'altro richiede un processo alchemico se vogliamo adesso potrei anche spiegarlo nei dettagli comunque un cambiamento di stato della materia che guarda caso coincide proprio con quello che ci ha indicato gesù cioè morte morte sulla croce cioè morte però è è una non era una morte reale era la morte la croce rappresenta lo spazio tempo quindi la morte sulla croce alla fine il fatto che la croce non è lo spazio tempo non è reale poi risurrezione e che è un cambiamento di stato della materia che gesù ha indicato ma che potrebbe spiegarsi proprio con una con una trasmutazione della materia e dopodiché ascensione perché la cosa incredibile che l'altra terra non ha gravità cioè questo è provato ci hanno messo tanto a dar riconoscerlo pubblico e pubblicamente però l'altra terra che alla forma embrionale non ha gravità pazzesco c'è gravità sulla superficie terrestre c'è gravità sulla l'altra terra non ha gravità poi adesso con lo sviluppo straordinario delle teorie delle stringhe che tra l'altro anticipate da giordano bruno perché parlava di invisibili fili e la la teoria delle stringhe dimostra che sembra dimostrare una cosa che ha addirittura detto anche olero grande matematico no che la gravità è solo sulla crosta terrestre mentre sui gironi interni come dimostra anche dante eccetera non c'è gravità ok è da rivedere tutto dalla tutta l'astrofisica da cambiare praticamente è sì da cambiare è da cambiare ma non solo è da cambiare la concezione comune della realtà insomma molto di più se vuoi perché ci tocca da vicino sicuramente tocca a tutti quanti noi certo però ecco questo questo passaggio dalla terra sferica all'altra terra che sta qua quindi non è un viaggio nel tempo è un viaggio nel nell'unità però perché su un unico organismo non si spara addosso questo è il punto cruciale quindi qui quello che fa la differenza giuliana alla luce di quello che sono quello tutto ciò che si trova su internet su youtube le catastrofi eccetera no tu adesso le stai spiegando la parte scientifica geofisica ma c'è una parte che include molto include noi direttamente cioè qui fa parte anche della nostra coscienza e sì perché noi abbiamo una caratteristica che finora non ho citato ma è molto importante cioè noi abbiamo la le clavicole che formano un articolo spina dorsale sì e io ho avuto mio figlio che si è rotto la clavicola e visto la radiografia mi era preso un colpo perché gli stava dritta così e il medico che la storia dice no no ma questa si risistema senza il gesso perché ci stanno delle ci stanno delle legami che tirano tirano le clavicole e fanno la t con la spina dorsale questo è un fatto non sono un anatomista ma controllatelo insomma è un fatto ben noto allora che perché noi che vuol dire nel nostro sistema linfatico che è il più ricco di acqua in assoluto abbiamo detto il 93 per cento contenuto di acqua le cellule t che fanno osservano i virus nocivi se i virus se sono nocivi se sono innocui li lasciano passare se invece sono nocivi fabbricano l'anticorpo e l'annichilino cioè noi abbiamo un sistema linfatico fondato soprattutto su acqua perché il 93 per cento del fatto di acqua che genera con le sue cellule t genera gli anticorpi e ci guarisce adesso non voglio fare la polemica con con i vaccini però abbiamo questo sistema linfatico che è molto che è stato ignorato no da da questo fatto che conosciamo bene ok quindi la il il nostro sistema linfatico dimostra un'intelligenza straordinaria anche perché qui non c'è una pompa al sistema linfatico che cos'è che fa circolare la linfa non c'è un cuore allora la circolazione della linfa potrebbe essere legata alla forza o alla luce luce o forza sono più o meno sinonimi in fisica che la fisica chiama debole la forza debole e che non è debole per niente perché le prove sono che la forza debole è mille volte mille volte scusate forse mi sbaglio adesso parlando devo controllare comunque è molto più rapida della forza forte ok allora giuliana bene a questo punto no allora noi abbiamo detto abbiamo spiegato la doppia votazione del cuore della terra abbiamo fatto tutto dato una spiegazione chiara di tutto come si sta muovendo ci sono degli indizi che ci dicono che quest'anno nel 2024 insomma da quello che mi hai detto anche tu insomma sono degli indizi che ci sia che ci sarà un cambiamento ma la domanda è come è possibile che un tale cambiamento della realtà sia in dolore no spiegaci perché non lo è in dolore perché adesso è questa è una domanda è in dolore ok ma spiegacelo per i potenti che se non riescono più a sparare addosso agli altri insomma ma il cambiamento potrebbe riguardare il buco nero al centro della terra che diventa un buco bianco ok ma nel momento in cui accade giuliana questo non ci danno cosa ci fa noi cioè abbiamo del buio succede qualcosa sono domande ma sì ma infatti i famosi tre giorni di buio probabilmente sono dal fatto che a un certo punto il centrifugo il centripeto perché il centrifugo è fuori e il centripeto è dentro o cioè viceversa insomma non importa però se quello centripeto supera il centrifugo si annulla si annullano gli orizzonti cioè quello che abbiamo visto finora non sarà più la stessa cosa ok ok un nuovo cielo una nuova terra appariranno perché apparirà la terra di cui abbiamo visto l'aspetto bambino insomma l'embrione e anche l'universo perché finora noi abbiamo visto solo la luce elettromagnetica non abbiamo usato l'altra luce che è la luce debole che la luce debole non si vede con gli occhi ma anima ed è quella che sta favorendo questo cambiamento nel cuore della terra e questo cambiamento è stato intravisto visto dai cinesi dai due geofisici cinesi che avevano già riconosciuto il doppio movimento est ovest al centro della terra e adesso dicono forse si sono invertiti cioè questo è un indizio straordinario di quello che sto ripetendo intendiamoci cioè che non avremo più la visione che abbiamo avuto finora ok allora mettendo insieme tutto questo giudiana allora siamo un unico organismo relativamente amo cellule di un unico organismo e quindi spararsi è stupido insomma perfetto ok assolutamente sì abbiamo degli indizi che ci dicono che ci sarà un cambiamento ma questo cambiamento è qualcosa che non è apocalittico ma è qualcosa di 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 no è apocalittico nel senso originale del termine l'apocalisse vuol dire rivelazione allora è la rivelazione che siamo partecipi di un unico organismo ok quindi una rivelazione tale è chiaro che essendo essendo io una cellula non ti spara a te che sei un'altra cellula perché l'organismo sta bene se siamo tutte le cellule stanno bene e l'acqua circola in modo che perché l'acqua poi è l'elemento che li unisce quindi è un cambiamento di mentalità straordinario che però c'è stato anticipato da grandi come gesù come giordano bruno come dante e probabilmente coinvolge il cuore della terra cioè il cuore della terra da buco nero può diventare buco bianco e questo ci cambia tutto l'universo cioè ci cambia la visione l'universo se ne strabatte magari se ne può pure strabattere di quello che siamo noi perché siamo 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 piccoli eccetera però la nostra ci cambia la visione e questo è un evento anticipato dalle profezie che si spiega si spiega appunto con una concezione del cuore della terra legato a qualcosa che ora si sta misurando poi faccio presente che il cuore quando molti giornali ancora riportano che il cuore della terra è fatto di nickel e ferro non è vero affatto è fatto di carbonio questo è dimostrato cioè è la riserva più grande di carbonio del pianeta tant'è vero che delle delle persone esseri sensibili lo chiamano il diamante lo stato solido delle del carbonio e quindi altri lo chiamano il cuore cristallino che non è un unico diamante però è fatto di tanti cristalli il cuore cristallino della terra che sta cambiando e secondo me è quello che sta facendo impazzire più o meno tutti i governi perché cercano di nascondere questo fatto grandissima giuliana fantastico fantastico ascoltami cara allora facciamo voi hai bisogno di bere un acqua perché adesso rispondiamo a qualche domanda prendere un po d'acqua sì qualche domanda dai ok e stare qui con giuliana è qualcosa di di straordinario grazie a tutti quanti voi che state facendo delle domande è vero ho visto prima con qualcuno mi ha scritto che ho interrotto è vero sì è che faccio cerco di siccome magari non capisco nemmeno io cerco di fare in modo di di capire io e magari capisce che qualcun altro quindi scusate scusami giuliana mi scuso direttamente perché qualcuno ha scritto perché l'ha interrotta che stava spiegando questa cosa effettivamente poi vabbè dopo l'abbiamo ripresa comunque quindi l'abbiamo ripresa ok allora adesso la la regia ci manda qualche domanda io te le leggo giuliana e vediamo un attimo di dare qualche risposta ok rego regia bene allora come passa il magma nello spazio vuoto il magma ma io non ho parlato di magma infatti ma questa è una cosa che probabilmente conosce la persona e se l'ha chiesto quindi il magma è per essere all'interno dei vulcani non c'entra niente ok a posto va bene perfetto ok giuliana si può dire anche non c'entra niente ok poi un'altra domanda precedenza a quelli del ok buonasera domanda che volevo porre a giuliana è il sole non emette più luce gialla ma luce bianca perché ma pure questo chi l'ha detto il sole mettiamo l'abbiamo detto noi no 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 il sole pure sta cambiando un po però il sole comunque mette c'è la fusione fredda fusione calda scusata nel cuore della del sole ed emette emette luce più o meno la solita quello che sta cambiando sul sole è il fatto che emette queste masse coronali cioè la il sole che sarebbe diciamo il centro della gravità no galileo tutto contenta pur si muove e però la la il sole stai mettendo masse massa proprio è plasma la pasta esterna no e questo plasma viaggia praticamente poi tocca tutti i pianeti del sistema solare cioè c'è una sorta di spirale questa la calcolata un astronomo famoso adesso non me lo ricordo ma insomma quindi il plasma parte della dalla superficie solare fa tutta una sfera e tocca venere mercurio marte eccetera eccetera la cosa incredibile che quando arriva sulla terra io ci ho filmato ma insomma la luce solare viene dal sole quindi tocca da dove per noi è mezzogiorno però che succede che qui noi ci abbiamo la magnetosfera terrestre che impedisce la che la raggi solari tocchino la superficie terrestre dalla parte di mezzogiorno allora il plasma che fa aggira la terra e tocca la superficie terrestre di notte cioè dalla parte della notte tanto siccome la terra gira tutta la terra ogni parte della terra tocca la notte insomma e tocca la terra guarda casa alle 3 32 della notte e guarda caso in quell'istante c'è la secrezione ormonale delle nostre cellule delle nostre delle nostre chiandole endocrine quindi questo cioè siamo figli del padre sole della madre terra come diceva giordano bruno insomma è un indice sostante di quanto siamo collegati al sistema solare poi siamo collegati pure all'intera galassia insomma c'è ok bene un'altra domanda ma secondo voi platone dante eccetera come facevano a sapere tutto ciò grazie alberto alberto prima giuliana diceva probabilmente sono delle intuizioni visto che oggi abbiamo degli strumenti prima non magari non c'erano giuliana a te la risposta ma sai il più grande di tutti era socre ha detto che conosci te stesso noi abbiamo un cervello straordinario di cui siamo una piccola parte in modo consa cioè non usiamo tutta la materia bianca la materia bianca il 70 per cento del nostro cervello è materia bianca noi siamo generalmente solo la materia grigia e qui ci stanno quei grandi i fratelli green che hanno inventato le due favole biancaneve e cenerentola cenerentola è quella che fa la serva e usa solo la materia grigia invece biancaneva è quella che poi organizza cioè scappa organizza tutti i sette nani in qualche caso i sette nani sono anche gli stati di un atomo semplice quello di idrogeno quindi c'è tanti grandi che hanno intuito delle cose che poi sono state spacciate per filosofia per favole eccetera ma o anche dipinti no dipinti famosi insomma come leonardo e cioè che hanno anticipato scoperte che poi insomma non vengono non vengono comprese nella loro profondità quindi la risposta è intuizioni diciamo intuizioni sensazioni sensazioni cioè la forza debole anima allora noi questo animare se facciamo attenzione alla forza debole la usiamo Gesù diceva c'è un'altra luce della luce chiamata debole che non è debole per niente faccio presente che la scopre Enrico Fermi e ci fanno bomba atomica quindi insomma che debole è ed è la luce debole questa è la cosa grossa è mille volte più rapida dalle due luce forte e quindi questo saperlo mina il potere temporale al quale di quale siamo ancora tutti schiavi certo in quello che dicevi prima ok bene successiva questi cambiamenti che stanno avvenendo porteranno anche a cambiamenti sugli esseri che popolano il pianeta terra e se si quali questo abbiamo un po detto prima si è fatta la tua volontà diceva qualcuno cioè dipende dalla volontà c'è chi vuole che è disposto a fare un cambiamento e chi si ancora le vecchie cose scelte libere insomma bene la prossima per questo cambiamento ci posso preparare ci possiamo preparare aspetta qui qua c'è una cosa ci possiamo preparare in qualche modo per viverlo al meglio il cambiamento lo vedranno tutti a prescindere dal lavoro interiore che ognuno ha fatto ecco e la seconda abbiamo già risposto che è secondo la tua volontà come dicevi tu Giuliana prima e l'altra parte in questo cambiamento per questo cambiamento ci possiamo preparare in qualche modo per viverlo al meglio ma stessa risposta forse ma sarebbe il caso di interrogarsi di fare domanda a se stesso di cercare perché se vediamo quelle che ci raccontano ci raccontano che bisogna il vaccino quando cioè sono una serie di bufale è chiaro che il potere vuole sta cercando di conservare se stesso allora chi chi è ligio ai dogmi esatto quindi interrogarsi guardare oltre il proprio naso oltre il proprio parametro ok bene passiamo oltre qualche altra domanda regia eccoci qua ci sono novità sull'asse terrestre? ah sì come no questo adesso non l'abbiamo trattato ma l'asse terrestre si sta spostando per non dire che il cuore anche sta cambiando quello non solo dei geofisici cinesi ma cioè è sorto no? sembra che il cuore si sia fermato poi figurati non c'è un punto fermo nell'universo non si ferma niente però ad esempio se inverti la rotazione c'è un cambiamento quindi cosa sta succedendo all'asse terrestre? l'asse terrestre quindi si è inclinato l'asse terrestre si sta spostando questo lo dice la NASA io lo riporto nel libro dopodiché però la cosa non ha avuto seguiti perché se capiscono che è troppo spiega troppo insomma evitano di parlare comunque l'asse terrestre dico che Giordano Bruno parlava dell'eterna primavera è il ritorno dell'eterna primavera perché l'asse terrestre è inclinato rispetto al piano dell'equatore di 23 gradi e quindi questo fa sì che quando noi l'emisfero nord è estate nell'emisfero sud è inverno però se si rapprescia non c'è più l'alternanza delle stagioni quindi l'eterna primavera e per noi che stiamo a 42 gradi adesso quelli che stanno a 90 gradi non lo so però noi che Italia insomma zona temperata c'è un'eterna primavera sia sud sia nell'emisfero sud che nel nord ok va bene c'è qualche altra domanda? energia? altre due domande e poi concludiamo sai sì sì vabbè questi fenomeni sono spesso identificati come il passaggio alla quinta dimensione potrebbe spiegare meglio questo concetto? se è spiegabile guardate io sono una fautrice della teoria delle stringhe che tra l'altro è stata anticipata da Giordano Bruno invisibili fili ci uniscono all'infinito e secondo la teoria delle stringhe le dimensioni sono 11 quindi quindi la quinta dimensione fa ridere sicuramente stiamo in un multiverso con molte più dimensioni delle quattro spazio temporali che scambiamo per realtà ma che invece sono l'illusione della luce elettromagnetica sicuramente anche perché poi nel nostro corpo ci sono azioni di una complessità straordinaria insomma c'è un'ingegneria genetica non è solo l'erezione verticale ma tutti gli organi quello che fanno la milza il liquido cerebro spinale che salta dalle parti più basse dal sacro e sale su e circola per tutto il corpo cioè insomma è qualcosa di straordinario quello che è il nostro organismo quello umano ma che c'è un abisso con le scimmie ma pure le scimmie non sono da poco insomma ecco cioè noi sicuramente insomma abbiamo un cervello di gran lunga superiore è tutto di una complessità è chiaramente un progetto straordinario insomma assolutamente sì Giuliana c'è una domanda sull'acqua che voleva così ah bene l'acqua una commentina sull'acqua così ah è un po' io bevo acqua disorgente miepita in bottiglie di vetro entro quanti giorni va consumata finché non si perdono le virtù dell'acqua va bene questa domanda è per me Giuliana eh sì rispondi tu dai eh Antonio allora guarda stasera non avevamo l'argomento acqua perché con Giuliana l'abbiamo già fatto ma ci siamo ripromessi devi farla quindi se sei iscritto al nostro canale lo saprai quando tuttavia ecco l'acqua per quello che succede anche con il biovital il brevetto biovital acqua noi abbiamo dopo 24-48 ore torna nella struttura che avevamo trovato quindi la rivitalizziamo ma poi ritorna perciò se tu la prendi da una sorgente quindi una fontanella o cose del genere poi sappi che la prima giornata bene la seconda giornata perde quelle sue caratteristiche ok bene ma voglio aggiungere su questo che l'acqua è chiamata sostanza madre perché genera il magnetismo e quindi genera il movimento l'acqua è essenziale cioè noi siamo figli di la madre terra che è acqua è un pianeta acqueo fondamentale e del padre sole come diciamo non solo quello che sta lì ma anche il sole al centro della terra quindi i due elementi acqua e fuoco coesistono nei nostri corpi sono essenziali entrambi insomma assolutamente ok io direi che Giuliana potremmo a meno che non ci sia una domanda urgente ma non penso siamo dai urgente non c'è niente ormai per il discorso spazio tempo adesso se cambia nel giro di pochi mesi un po' di urgesa ci sta ok ecco allora Giuliana prima sai all'inizio io ti dicevo non ha senso dare date non ha senso dare però tu mi dicevi che il 2024 è un anno importante sta cambiando l'asse polare che prima non cambiava sta cambiando stanno cambiando una serie di frequenze sta cambiando e poi guardate paradossalmente ce lo dimostrano i governi con tutta sta mania di fare guerre perché lo scopo è di rottare l'interesse e non far vedere quello che sta succedendo veramente insomma ok quindi diciamo che siamo a ridosso della rivelazione quindi della sì la rivelazione riguarda la terra che è un organismo e in quanto organismo si nutre di acqua di liquido e e non si non non se le armi perché essendo un unico organismo non si spara addosso insomma quindi questa è chiaro che la rivelazione dell'altra terra che ha la forma di un organismo è la fine di ogni potere potere armato insomma ma anche del potere e soprattutto anche scusate questo ve lo dico del potere temporale perché nel nostro corpo ci sono tante tante funzioni che hanno ciascuna il proprio ritmo ho detto che la più rapida è quel sistema linfatico che si rinnova con una rapidità di pochi secondi le cellule del sistema linfatico invece il sistema sanguigno ci mette moltissimo mi pare addirittura anni 6-7 anni quindi noi siamo un insieme di tempi plurale e credere a un unico tempo insomma è il colossale inganno l'ho già detto ma insisto perché sono a Roma ok allora Giuliana grazie grazie a te Simone qui un po' di condivisione di novità è piacevole però io ringrazio anche tutte le persone che ci hanno che hanno partecipato numerosissime più di 400 persone poi tutti gli altri soci insomma avremo in tanti 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 e non abbiamo risposto a tutte le altre domande ma insomma faremo in modo magari di dare delle risposte successivamente se ci iscriveranno Giuliana quindi ti romperemo le balle ancora per questa live che magari gira la guarda e ci chiederanno perché non lo so ok quindi grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima ciao Giuliana ciao Simone grazie grazie ciao ciao a tutti rimani qua un attimo rimani qua un attimo che ci salutiamo e ciao a tutte le persone ciao ciao ciao